10 minuti, riprenderemo poi, faremo l'intervallo fino alle 11.30, 10 minuti per delle domande. C'è qualcuno che vuole porre delle domande? Prego. Domande flash, risposte flash. Sì, due domande su quest'ultima relazione, molto bella, complimenti. Noi abbiamo dimostrato nell'ambito di Baveno e nell'ambito NIEC una differenza di importanza nella valutazione della predizione del sanguinamento nel paziente di perdizio portale tra la pressione diretta nelle varici dell'esofoico rispetto alla pressione bloccata sovraepatica. Il volume che si vede in imaging del flusso attraverso le collaterali che vanno verso l'esofaco e verso le sovraepatica sicuramente è importante, però quello che è importante è poi la pressione. Tant'è vero che dal punto di vista endoscopico abbiamo dei criteri predittivi oltre al volume anche delle alterazioni su questo. Voglio sapere se c'è un'esperienza e se la dimensione può essere correlabile con la pressione interna. Questa è la prima domanda. Seconda domanda flash. La pressione, scusi, la dimensione delle varici? La dimensione delle varici. Misurata all'imaging? Esatto, sì. Non c'è problema, è impossibile. Le rispondo subito di no. No, però una cosa interessante è il problema della puntura diretta dell'avarice dell'esofago per avere un criterio predittivo della probabilità di sanguinamento nel paziente in attesa del trapianto. L'altra domanda che volevo fare era il problema dello shunt del flusso arterioso. Spesso nel paziente trapiantato c'è il problema delle recidive delle stenose, delle anastomosi biliari. Questo è un dato estremamente interessante che non conoscevo. Avete delle esperienze sulla embolizzazione per ridurre questo problema del furto? Sì, non è molto frequente. Noi ne abbiamo visti forse cinque casi in tutto. Perché deve essere un'ipertensione portale molto molto inveterata per non andare indietro, per non ridursi al momento del trapianto nei giorni successivi. E li abbiamo trattati sempre perché sintomatici per il presplenismo. Probabilmente è uno dei cofattori da tenere in considerazione. Complimenti, questa è una novità. Ci sono altre domande? Ne avrei una? Io per Gigi. Prego, allora. Prego. Una domanda per il dottor Grazioli. Gigi, hai parlato della differenza di wash in wash out tra attacca e risonanza magnetica. Dove la risonanza vede meglio il wash out rispetto all'attacca. Visto il colloquio che abbiamo fatto, la discussione che ho avuto al telefono l'altro giorno, non pensi che sei dovuto a una geometria del bolo più compatta e risonanza che iniettiamo poco rispetto a quella dell'attacca che iniettiamo tanto? Quindi c'è un allungamento della fase arteriosa che si prolunga in fase venosa? Sì, sì, io ovviamente non sono entrato in un discorso tecnico, ma sì, sono perfettamente d'accordo. Credo che la geometria influisca. Forse anche qualche peculiarità di mezzo di contrasto, anche in risonanza magnetica, nelle piccole dogie che perturbano molto quello che è la possibilità di cambiare i tempi di rilassamento, e quindi percepirlo quando acquisisci conseguenze più appropriate, tant'è che potremmo enfatizzare in contrasto indipendentemente dalla dose o dal flusso, cambiando anche i parametri di sequenza. Però sono d'accordo. Io ritengo che in TAC dobbiamo ancora lavorare su sta roba. Cioè, le TAC nuove, molto veloci, ci costringono a ripensare anche a nuove geometrie di bollo e tutto quanto. Sicuramente, sì, sì, sono d'accordo. Sì, sì, una domanda. Tu hai detto il controllo a sei mesi del nodulo, ma hai avuto problemi medico-legali per questi controlli così distanti nel tempo? Ovvero sì, a nessuno ti sei mai rivolto dicendo ma lei mi ha fatto aspettare sei mesi? Vabbè, ma per fortuna delle linee guida ce ne sono tante, su questo argomento abbastanza, come dire, coincidenti. Sì, so che i giapponesi nel cosiddetto nodulo, tra virgolette, ad alto rischio, propongono anche i quattro mesi. Il concetto è che il tempo li raddoppio mediamente sui 120-150 giorni. Quello che io analizzo e considero, quando stendo il referto, è la sede. Un nodulo di un centimetro e mezzo, duca, che è periferico, distante dalle strutture, tra virgolette, cardine, ovviamente mi preoccupa molto meno che non un nodulo magari piccolo, magari già contigua una principale struttura, magari non delineato, però con la linea guida ci indica questo, anche perché altrimenti subito a tutta una serie di altre problematiche, costi e quant'altro, gestione. Però si è fatto un ragionamento sul timing ed è accettato che è un tempo che va a considerare anche la biologia tumorale, nella sua essenza grossolana, soprattutto i termini raddoppio. Per cui, no, no, non ho rimorsi. No, perché deline... Non ho rimorsi. Va bene, perché deline guida, sì, però di fronte a un giudice non è che possono poi essere... Sì, ripeto, granusalis, io credo, ripeto, una forma piccola e infiltrante non è come ovviamente un nodulo piccolo delineato in una bella capsula che magari si palesa bella spessa e quant'altro, non è come dire matematica che la capsula non sia sicuro contenimento, però sicuramente la presenta è una sorta di barriera, per cui ti dà l'idea che cresca un pochettino più lentamente e contenuto. Va bene. Ci sono altre domande? Benissimo. Allora facciamo pausa fino alle 11.30.